Siamo qui ad Arco, al Casinò, per un concerto un po' particolare? Un concerto molto particolare perché siamo in quest'anno molto particolare. Allora siamo solo gli archi dell'Orchester Haydn e pochi archi, siamo una quindicina, però sono dei bellissimi programmi lo stesso e che suoniamo con grande piacere senza direttore e dunque è praticamente fare musica da camera tutti insieme. Siamo per esempio qui soltanto cinque primi violini, quattro secondi, tre viole, due violoncelli, un contrabbasso. E suoniamo musiche di Rossini, Schubert, Mendelssohn e Gustav Holst. In questo caso la mancanza del direttore, chi tiene un po' le redini del gruppo? Assolutamente il primo violino, il concerto maestro, in questo caso sono io. E' un modo di fare musica che si faceva tantissimo nel Settecento, partiva dal concert maestro o dal clavicembalista senza direttore. Il direttore, come forse non tutti sanno, ma è piuttosto nella seconda metà dell'Ottocento che nasce questa figura. Proprio con Mendelssohn che eseguiremo, Mendelssohn è stato uno dei primi veri direttori d'orchestra, anche perché il repertorio cambiava e le musiche, le orchestre diventavano più grandi e anche nelle musiche c'erano più effetti di rallentando, accelerando di tempo, dove lì effettivamente è molto più semplice con un direttore che dirige tutto. Ecco, oltre a questo ruolo nell'orchestra Haydn collabori anche con molte altre orchestre? Ecco, allora io da 23 anni sono felicemente alla spalla dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, però sono anche molto felice di collaborare come primo violino ospite in varie orchestre, per esempio la Scala di Milano, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro San Carlo di Napoli, la Finisci di Venezia, il Teatro Dirico di Cagliari, forse dimentico qualcosa anche un po' all'estero. Ecco, dunque combino un po' la mia base, rimane Bolzano, però per fortuna ogni tanto vado a vedere altre orchestre, altre esperienze e questo. Ecco, com'è appunto l'esperienza di vedere grandi orchestre, magari spesso più rinomate, e il rapporto con la nostra orchestra regionale che magari anche molti trentini non conoscono? Allora, la nostra orchestra Haydn regionale è quasi inimitabile anche perché è veramente di dimensioni più piccole. L'organico base dell'orchestra Haydn sono dieci primi violini, otto secondi, eccetera, e fiati, due flauti, due corni, due fagotti, clarinetti. Spesso io, quando vado sia alla Scala che al Maggio in altre orchestre, sono orchestre decisamente più grandi, dunque il repertorio è diverso, e anche per dire si fa opera, cose che qui facciamo molto meno. E per questo dico che è un po' inimitabile, l'orchestra Haydn ha la sua natura che pochissime orchestre hanno in Italia, piccole orchestre così, e dunque per il repertorio piuttosto classico, Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn. Ecco, le altre grandi orchestre italiane intanto fanno soprattutto opera, e però quando fanno il sinfonico allora possono fare Mahler, Tchaikovsky, Bruckner, cose che qui non facciamo quasi mai. Giusto, un'ultima domanda per salutarci. Ultimamente ci sono stati un po' di problemi nel mondo del teatro, nel mondo della musica, vediamo enti lirici in fallimento, orchestre che chiudono. Quale sarà secondo te il futuro degli orchestre in Italia? Buona domanda, perché speriamo veramente che ci sia questa possibilità pratica e di sicurezza di tornare a produrre degli spettacoli di grandi dimensioni. Dal momento che quello sarà possibile, allora sì. Intanto ci dobbiamo adeguare, i teatri si devono adeguare, magari producendo opere più piccole, con organici ridotti, meno, il problema anche molto sono i cantanti, i ballerini, ecco, riducendo tutto ed è possibile, cioè è veramente una questione di immaginazione, di fantasia, di trovare certe soluzioni. Come noi comunque nel nostro piccolo abbiamo fatto, suonando sempre con organici ridotti, suoniamo addirittura nei cortili delle case a Bolzano, in quartetti, quintetti, sestetti, e quindi dobbiamo reinventarci un po', non possiamo più andare avanti come abbiamo sempre fatto. E io dunque, per rispondere alla domanda, credo che sì, che il futuro delle orchestre è comunque buono, perché non vedo come possano sparire, soprattutto in Italia dove è nata gran parte della storia della musica occidentale. Dunque sono ottimista, solo che dobbiamo essere svegli e pronti a reagire a queste nuove situazioni.